Una nuova fiamma per Aida Iespica. La showgirl venezuelana unisce l'utile e il dilettevole e scopre la complicità insieme al suo commercialista Matteo Cavalli, che da qualche tempo ne segue gli affari finanziari. C'è chi è pronto a scommettere che sia l'inizio di una love story, ma lei frena, e è troppo presto per parlare d'amore. Admortalare per la prima volta la coppia è il settimanale, chi che pizzica i due durante una vacanza a Miami. Aida, infatti, si divide quotidianamente tra Milano, dove lavora, e la città americana, dove vive il figlio Aaron, avuto dal calciatore Matteo Ferrari. E proprio qui l'ha raggiunta il suo lui per godersi qualche giorno di relax. Se son rose fioriranno, per la bella 35enne sì. Tratterebbe di un nuovo inizio dopo la fine della storia con Geppi Lama, imprenditore che ha lasciato al termine dell'esperienza al grande fratello Vip. Grazie a tutti. Grazie a tutti.